La scala leggera non sarà indolore, otto anni così intensi, così pieni di sforzi ma anche di soddisfazioni in una realtà tanto complessa quanto viva e stimolante. L'esperienza che mai sarebbe stata possibile se non avessi trovato qui, tra i tanti problemi, anche tanta intelligenza, coraggio, vivacità, curiosità. È stato un comune sentire con questa città, una comune crescita, con un interscambio che mi ha davvero tanto arricchito. Il procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Gera, Lucia Lotti, ha preso carta e penna pochi giorni dal suo trasferimento a Roma, previsto per il prossimo 26 aprile. Nella capitale ricoprirà l'incarico di procuratore aggiunto. Questi mie anni a Gera, dice Lucia Lotti, si sono rivelati ancora più interessanti e stimolanti per la presenza e per la professionalità della classe giornalistica presente sul territorio. Prima di venire qui, sottolinea, non avevo mai gestito rapporti con il mondo dell'informazione. Non è semplice il rapporto, tanti gli aspetti da considerare, ma a Gera l'esperienza è stata assolutamente proficua, positiva, senza ombre. Lucia Lotti ringrazia di cuore tutti i giornalisti per la correttezza e la professionalità che quotidianamente si mettono in campo, per la linearità dell'agire, per avere non solo seguito con attenzione e puntualità il lavoro dei magistrati, ma anche compreso a fondo gli sforzi e l'approccio. Il tempo passa, si va e si viene. L'importante è costruire con tenacia e bene, mettere in ciò che facciamo energie positive, far vivere le nostre istituzioni al meglio, ovunque ci troviamo ad operare, a rendere degno il nostro servizio in ogni parte del territorio. E questo vale tanto per la giustizia quanto per l'informazione. E arriva così il momento dei saluti. Lucia Lotti, originaria di Firenze e a capo della procura gelese dal 2008, ritorna a Roma dove per 17 anni ha svolto incarichi importanti alla direzione distrettuale antimafia con una specializzazione elevata nella materia dell'usura del traffico internazionale di suoi facenti e della criminalità organizzata e in magistratura dal 1981. A Gela, Lucia Lotti si è ambientata perfettamente. Dopo tre anni dalla sua insedimento, così come prevede il regolamento, avrebbe potuto chiedere il trasferimento, ma non l'ha fatto. Gela, ha sempre detto, è straordinaria. Accordo siglato per la cassa integrazione destinata a 600 lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. La firma è stata posta ieri all'assessorato regionale al lavoro. Questo accordo, che interessa anche Termini Merese, dice il presidente della regione, Rosario Crocetta, mostra concretamente l'atteggiamento del governo regionale nei confronti delle due aree di crisi complessa della Sicilia. avevamo preso questo impegno con i sindacati e lo abbiamo mantenuto. Chiaro che nei momenti in cui ci stiamo impegnando per sbloccare le autorizzazioni a livello nazionale, per fare gli investimenti, è giusto che in questa fase ci siano provvedimenti di transizione che diano respiro ai lavoratori e possano permettere loro di tirare avanti, perché non è che i processi di riconversione hanno bisogno sempre di tempo. La regione ha detto, io avevo detto, che la cassa di integrazione ci sarebbe stata, nonostante una serie di problemi nazionali che abbiamo avuto, però alla fine la regione con i propri fonti ha garantito ai lavoratori di Gela e di un'altra area di crisi che è quella dei Termini Meresi, dove anche lì nascono gli spiragli nuovi della possibilità di fare l'auto elettrica e quindi anche lì l'industria pulita di risolvere le questioni. Presidente, ma quando realmente partiranno i cantieri allo stabilimento in merito alla riconversione green? Noi siamo in dirittura d'arrivo sulla questione dell'ISA, è ovvio che in questa fase la vicenza del referendum sulle pribellazioni crea qualche problema agli investimenti dell'Eni, non ce lo nascontiamo, anche se lei ne devo dire, nonostante l'incertezza abbia praticamente proseguito a fare gli investimenti su Gela. Io spero di fare a giorni un punto proprio sulla situazione del piano degli investimenti di Gela, però sta da sé che la situazione generale di incertezza non rende sicuramente facile la situazione, però gli investimenti a Gela ci faranno, la riconversione green della raffineria ci sarà e ci saranno anche una serie di investimenti che la Regione farà sul territorio per riqualificare la città che stiamo mettendo proprio nel patto per lo sviluppo da fare con il governo, che prevedono privilegiate in modo forte le due aree di crisi regionali, in termini di merito e di Gela, con investimenti che non sono solo di tipo industriale, ma vanno verso l'incoltura, verso la questione delle ID, che vanno anche verso la questione della riqualificazione urbana. Contrastare la realizzazione del parco eolico di 38 pali che raggiungono un'altezza di quasi 160 metri a due miglia dalla spiaggia antistante il castello di Falconara, proposto dalla Mediterranea Wind Offshore di La Spezia. Il 13 aprile prossimo a Roma, presso il Tribunale Amministrativo Regionale, è prevista l'udienza che dibatterà il ricorso presentato dal coordinamento NOPEOS, formato dai comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento. Ieri incontro presso il Dipartimento Urbanistico a Gela. Le altre attività che stiamo avviando a sviluppo possono trovare un intoppo dal punto di vista proprio promozionale e pratico con questa realizzazione. Questa realizzazione che non si fermerebbe a Gela naturalmente, ma è una progressione nell'area più pregiata della costa sud-occidentale dell'isola e questo non lo possiamo assolutamente permettere. Questo andrebbe a intaccare l'economia, non solo l'economia del paese, l'economia che riguarda la pesca, che riguarda i reperti archeologici che sono stati ritrovati tra il mare di Gela e quello di Licata. In virtù anche del fatto che questo parco eolico non abbiamo trovato nulla che possa portare vantaggio per il nostro territorio e per le nostre coste. Auspico una maggiore partecipazione da parte di tutti i comuni, gli enti, ma soprattutto del Presidente della Regione ad oggi assente in tutti gli incontri e anche in tutte le nostre sollecitazioni. Non possiamo noi come comitati che lottiamo da otto anni contro questa speculazione, non possiamo che ringraziare i comuni di Licata e Gela e purtroppo rammaricarci per l'assenza di tutti gli altri. Cercheremo sempre di pungolare quelle amministrazioni che sono nella sostanza coinvolte, ma che ideologicamente sembrerebbe essere poco interessati e siamo fiduciosi che, stante la gravità del fenomeno e stante anche l'importanza dello sviluppo turistico che le nostre aree intendono svolgere nel prossimo futuro, si possa con sinergia affrontare queste battaglie e cercare di, quanto minimo, avere più chiarezza. Per il Comitato Nopeos il parco eolico devasterebbe fondali ricchi di reperti archeologici e non solo, ma creerebbe enormi problemi al transito di Avifa una migratoria. Consentire la realizzazione di un parco del genere significa veramente devastare tutta la costa che arriva da Gela fino ad Agrigento. Quindi è una battaglia anche veramente di civiltà importante che stiamo conducendo tutti con il massimo impegno. Il giorno 13 dovrebbe chiudersi la fase innanzi al Tarlazio, dovrebbe perché mettiamo sempre il punto interrogativo perché ci sono stati diversi rinvii fino ad oggi e quindi vedremo il Tar cosa deciderà. Valorizzare il patrimonio storico ed archeologico attraverso la donazione di tre vetrine al Museo di Gela. Questo diranno reperti che attualmente non riescono a trovare spazio. È l'obiettivo del Kivanis Club. In occasione del One Day Kivanis si è svolta una interessante iniziativa con la partecipazione anche delle mini guide della scuola Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Il museo chiaramente rappresenta un punto cardine del turismo che deve venire e che c'è quando a Gela. Valorizzare quindi il museo e soprattutto valorizzare i reperti che sono nascosti. Voi considerate quindi che ci sono più di 4.000 reperti che sono messi nel sottorragno del museo e che attendono quindi di essere esposti. Quindi iniziare con la donazione di delle vetrine per cercare di esporre questi reperti ci sembrava più che logico e sociale da parte del Kivanis. Saranno delle vetrine complementari a quelle che abbiamo per esporre quel materiale che purtroppo non possono essere esposte per problematiche diverse, per logiche diverse che non fanno parte del percorso o che si vogliono mettere in esposizione quelle che purtroppo sono conservate e non possono essere esposte. Conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico e storico di Gela partendo proprio dai più piccoli. E' stato facile fare la miniguida? Ci vuole tanto studio, impegno, costanza. Nonostante sia poco valorizzato è piena di reperti che dovrebbero essere più considerati secondo me. Ogni anno tutte le classi quinte, tutti e 100, 125 bambini vengono preparati in questo itinerario didattico che coinvolge lo studio dei reperti archeologici presenti nelle vetrine nel ricchissimo nostro museo. E loro spiegano la ceramica, i miti rappresentati e tutto il resto. Durante l'iniziativa erano presenti anche gli alunni del liceo artistico. Abbiamo avuto l'occasione di poter comunque approfondire il nostro studio e le nostre conoscenze sulla storia grazie soprattutto al contatto con le fonti di RET e anche io che facevo parte delle miniguide ho avuto anche l'occasione di rivivere tutta questa situazione che è piacevole. Questa giornata è molto interessante perché appunto ci permette di riscoprire il nostro passato che ancora oggi vive nel presente. L'interpretazione di tali fonti fa comprendere il modus operandi quindi dello storico, fatto di ricerca, analisi e interpretazione delle fonti nonché la riscoperta delle radici del passato. C'è chi è d'accordo, c'è chi esprime totale dissenso c'è chi non si pronuncia. L'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Gela, Domenico Mensinese ha provocato un vero e proprio dibattito soprattutto in RET il primo cittadino ha destinato al naturismo 6 km di spiaggia gelese tra la foce orientale del canale Scolmatore ed il fiume di Rillo in Contrada Bulala nei pressi del biviere una porzione di costa dunque che sarà a disposizione dei nudisti saranno vigi urbani ed operai della Tecra a fissare con la cartellonistica gli spazi previssati e garantire la pulizia della spiaggia. Negli anni 50 in quei luoghi, ha detto il primo cittadino si era insediato il cosiddetto Village Magique un'oasi internazionale creata da un imprenditore francese non vogliamo alimentare nessuna polemica né turbare alcuna sensibilità e nostra intenzione è solo intercettare uno segmento di turismo per promuovere le spiagge dorate decantate persino dal Nobel Salvatore Quasimodo il sindaco sottolinea inoltre che sono 20 milioni di naturisti in Europa con sole 600 strutture tra campeggi e villaggi che rispondono a questo tipo di domanda turistica con uno dei lidi naturisti più consistenti del Mediterraneo Gera è pronta a conquistare anche questa fascia di mercato trascurare un fenomeno in aumento come questo sarebbe un atto di irragionevolezza politica oltre che culturale ma non mancano le polemiche la sezione Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di Gela dopo un attento studio del piano regolatore generale sottolinea che lo stesso recita il biviere Macconi Gela che ricade all'interno della rete di Natura 2000 e che si trova a destra dell'abitato gelese a ridosso dello stabilimento fino ad arrivare al confine con il territorio di Vittoria è un sito identificato sia come SIC sito di interesse unitario sia come ZPS zona di protezione speciale in quella zona sottolinea Fratelli d'Italia non si possono costruire o realizzare aree ricettive o per nudisti inoltre in tutta quell'area insistono centinaia di piccole aziende agricole a conduzione familiare e le stesse zone sono interdette alla balneazione il capogruppo del Partito Democratico e del Consiglio Comunale Enzo Cirignotta intende chiedere la convocazione di una conferenza dei capigruppo per discutere dell'ordinanza emessa dal sindaco Cirignotta ritiene che trattandosi di un argomento delicato il tema vada approfondito la conferenza dei capigruppo con tutta probabilità si terrà lunedì prossimo Franzo, possiamo dire in definitiva che manca veramente poco al traguardo? Diciamo che siamo ad un passo letteralmente dal traguardo ieri il governo regionale ha finalmente deliberato il DDL di variazioni territoriali per i comuni di Gere, Piazza Almeida e Niscemi e quindi questo ulteriore passo è stato fatto siamo felici per questo dobbiamo soltanto attendere adesso l'approvazione del Parlamento regionale ma si tratta di una presa d'atto in sostanza nulla di più E quando Gela poi materialmente entrerà a far parte della città metropolitana di Catania? Nel momento in cui verrà pubblicata in gazzetto ufficiale quindi appunto manca il passaggio del Parlamento regionale speriamo che questo passaggio si risolva in pochissime settimane fatto questo possiamo dire che siamo con Catania ma finalmente potremo dopo undici anni di duro lavoro festeggiare la cosa più importante è che potremo finalmente programmare il futuro di queste comunità con un'area più ricca e con un'area che avrà più risorse a disposizione questa è la vera importanza e da un punto di vista economico il cambiamento che avranno questi territori Ed è una battaglia vinta da tutti da Gela in primis che lo ha dimostrato con il referendum e poi anche con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale Da undici anni seguiamo questo progetto abbiamo iniziato con la provincia di Gela il libero consorzio di Gela il libero consorzio di Catania per approdare poi la città metropolitana di Catania Devo dire che senza il supporto di tutti i cittadini gelesi da soli il comitato per lo sviluppo della leggerese e da soli insieme ai comitati di Piazza Almina e Niscemi non avrebbe mai potuto centrare questo obiettivo Se questo obiettivo si è centrato è perché 18.000 gelesi hanno sottoscritto prima la proposta di legge popolare 24.000 sono andati e si sono regati immaterialmente alle urne per votare il referendum abbiamo riscontrato il consenso dell'intera città questa battaglia si è vinta perché c'era il consenso di una città all'unanimità diversamente non sarebbe stato possibile Siamo felicissimi come comitato perché chiaramente seguivamo questa vicenda e ormai sembrava quasi una commedia dell'assurdo finalmente è stato esitato il DDL da parte della giunta ma ancora la parola fine sarà messa dall'ARS perché ricordiamo che il DDL dovrà approdare all'assemblea regionale per essere esitato anche se si tratta di una semplice presa d'atto Ma cosa succederà in merito proprio alla migrazione dalla libera consorzio dei comuni di Caltanissetta alla città metropolitana di Catania? Consentirà ai nostri rappresentanti di usufruire tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo nell'ambito delle elezioni che entro settembre, entro la prima metà di settembre saranno indette per dotare questi enti intermedi e in particolare per quello che a noi riguarda l'area metropolitana di Catania dell'organigramma interno per cui i nostri rappresentanti compreso il sindaco di Gela potranno aspirare anche ad un'eventuale candidatura E che ruolo avrà nella città metropolitana di Catania la città di Gela? Gela è una città che a livello di popolazione sarebbe tra le più grosse delle città che approdano all'interno dell'area metropolitana Il voto ponderato ci consentirà chiaramente di avere il ruolo che Gela merita di avere però molto ne sta dalla capacità e dalla caparbietà dalla competenza e dalla professionalità della politica di poter giocare questo ruolo e giocarselo fino in fondo con chiaramente i risultati che una città come Gela si merita tutti Per la prima volta all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela diretto da Luciano Fiorella è stato eseguito un intervento specialistico in prostatectomia radicale ad eseguirlo su tre pazienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata l'equipe medica formata da Nuccio Condorelli dirigente dell'unità operativa di urologia qualificato da Danilo Bottero esperto urologo di incontinenza urinaria maschile proveniente dall'Istituto Europeo di Oncologia presenti anche Carlo Gitana Franco Iragi Nino Branchina e Claudia Calì i tre pazienti finalmente hanno detto addio alle perdite di urina i tre pazienti che hanno subito l'intervento chirurgico non avranno più bisogno del pannolone? Sì e proprio questo era il nostro obiettivo crediamo di esserci riusciti perché soffriamo di incontinenza l'incontinenza sappiamo tutti cos'è è una perdita involontaria di urina Ma come si è intervenuti? Con una piccola incisione nel perineo che è la zona proprio sotto lo scroto mettendo una bendarella dall'inglese si chiama sling e questa bendarella non fa altro che sollevare l'uretra pertanto spingendola non fa perdere pipì Ed è il primo intervento che viene eseguito qui al Vittorio Emanuela? Sì, a Gela credo che sia proprio in assoluto il primo intervento sono pazienti che sono venuti da un'altra provincia quindi noi cerchiamo in ogni caso di invertire quel trend che prima era in negativo di importazione di pazienti Ma l'incontinenza riguarda soltanto una fascia alta oppure anche i ragazzi possono soffrire? No, purtroppo l'incontinenza può colpire tutte le fasce di età nel caso specifico la incontinenza di questi pazienti era dovuta ad un intervento precedentemente eseguito da me stesso quando ero a Catania in pazienti che hanno avuto un tumore alla prostata Soffrono più donne o uomini? Essendo una patologia sia maschile che femminile sono uomini e donne dipende dall'età ovviamente ma in questo caso, ripeto, essendo uomini perché colpiti da tumore alla prostata in questo caso abbiamo risolto un grosso problema molto fastidioso e imbarazzante per la qualità di vita del paziente a degli uomini ovviamente E alla fine degli interventi i pazienti cosa le hanno detto e cosa vi hanno detto? Ebbè, certamente loro l'indomani erano già a casa nella loro città sono molto felici li ho sentiti stamattina e chiaramente hanno risolto questo annoso problema che si portavano da diversi anni Arrivano delle importanti novità per i servizi demografici del Comune di Gela I cittadini al momento del rilascio del rinnovo della carta d'identità dovranno esprimersi sulla loro volontà in fatto di donazione di organi e tessuti post-mortem Le informazioni fornite dagli utenti saranno riportate nel quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o il rinnovo del documento Gli stessi dati saranno dunque fruibili e consultabili velocemente da parte del centro di coordinamento regionale dei trapianti È una volontà che ognuno di noi deve esprimere quanto è sano di mente e quindi è stata data disposizione di poter mettere questo dato sulla carta d'identità al momento della richiesta Questo dato naturalmente verrà inviato al centro nazionale trapianti e quindi se un giorno questa purtroppo bisognerà porre questa domanda questa decisione è stata già presa a monte dalla persona che più di tutto ha diritto di disporre del proprio corpo della propria vita che è la stessa persona coinvolta sollevando da grossi problemi effettivamente i familiari e i cari quindi è un atto che consente di poter aumentare le donazioni perché ricordiamo che donare è un atto d'amore è un atto d'amore che salva molte vite umane salva molte vite umane e in Sicilia purtroppo rispetto alla media nazionale siamo di lunga e lontana a raggiungere le medie che ci sono in altre regioni d'Italia quindi a Gela in questo modo cerchiamo di poter finalmente aumentare la donazione però senza far pesare questo sulle persone care questa è stata una richiesta da parte dei cittadini soprattutto di alcune associazioni di volontariato come l'Admo che vivono tutti i giorni questi problemi e che vivono tutti i giorni queste criticità quindi sono persone che stanno dentro questa problematica il sindaco di Gela ha inoltre dato mandato ancora ai servizi demografici di avviare l'ITER relativo al rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini che avrà efficacia anche come carta servizi può essere utilizzata anche come carta servizi può essere utilizzata per tanti altri oltre ad essere più comoda essere come una carta di credito praticamente ma consente di accedere ad altri servizi è un nuovo strumento che sta iniziando in altri comuni e quindi ha dato mandato per poter vedere qual è l'ITER da affrontare per poterla emettere pure nel comune di Gela Salvatore Incardona segretario cittadino dell'UDC il partito comincia a interrogarsi sull'utilizzo dei 32 milioni di euro di cui si parla moltissimo in queste settimane ma non soltanto vi interrogate all'interno del partito ma avete anche consultato i cittadini Sì, chiaramente la nostra linea già tracciata subito dopo il congresso del 28 febbraio è proprio quello di incontrare giorno per giorno i cittadini di vari quartieri in questi giorni l'UDC si è recato all'interno dei quartieri della città e ha incontrato parecchia gente parecchia gente che ci ha proprio fornito delle istanze da portare all'amministrazione chiaramente noi non ci poniamo come un'opposizione a tutti i costi io questo l'ho sempre ribadito la logica dell'opposizione non ci interessa quello che ci interessa è solo ed esclusivamente lavorare e fare il bene della città chiaramente si parla e io da cittadino gelese me lo auguro di una gela vocazione turistica ma non possiamo pensare al futuro quando invece mancano i servizi essenziali che motiverebbero il soggiorno di un soggetto in città Che cosa è emerso dal dibattito all'interno del partito e invece dalle dichiarazioni dalla consultazione così informale dei cittadini? Sì, il partito chiaramente lavora anche in concerto con la cittadinanza diciamo che le istanze sono se non identiche ma molto simili a quelle del partito chiaramente il partito pensa anche ad un'alternativa all'indotto quindi lo sviluppo di ciò che siano i settori dell'agricoltura del mare ma ci sono anche dei problemi minori ma che non vanno tralasciati la gente mi parlava ad esempio di un piano colori di cui si parla da parecchi anni ma un piano colori dove nessuno mai ha messo mano perché non iniziare con anche il minimo? Ci sarebbero due possibilità attraverso il piano colori ad esempio dare una possibilità a quelle aziende medio piccole che oggi sono costrette a chiudere i battenti ma e poi rendere soprattutto una città più bella Tra i servizi essenziali invece che cosa avete annoverato? Tra i servizi essenziali chiaramente il decoro urbano la viabilità soprattutto e comunque una pulizia abbiamo dato anche spazio a quello che può essere il collettore fognario e a quello che può essere la pulizia delle caritoie perché sappiamo benissimo che durante la stagione delle piogge Gela è interessata da numerosi disagi mi riferisco ad esempio alla via Venezia Il concetto fondamentale dunque ci sembra di capire prima di accogliere e pulire casa? Sì, chiaramente e senza dubbio le compensazioni sono a servizio della città non possiamo parlare di oratorio salesiano o ostello della gioventù che attenzione lo ribadisco sono tutte bellissime iniziative ma dobbiamo prima partire dall'ABC per poi arrivare alla Z questo ripeto noi ci impegneremo vigileremo sull'operato dell'amministrazione non risparmeremo le critiche dove dovessero esserci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti